Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Per aver questo look la Blasi non bada a spese ma il suo grande conto in banca certamente non glielo impedisce . Ilari Blasi è una delle conduttrice più amate e seguite dell'intrattenimento televisivo La donna nell'ultimo anno è stata letteralmente sulla bocca di tutti per la sua separazione da Francesco Totti, suo marito per vent'anni con il quale ha avuto tre figli I due si sono resi protagonisti di una clamorosa battaglia legale che continua a dominare le pagine scandalistiche nostrane Ma la Blasi è nota non solo per la sua storica storia con il pupone e per la conduzione di programmi di successo come il Grande Fratello e l'Isola dei Famosi ma anche il suo aspetto impeccabile e bellissimo Per raggiungere il suo look super glamour Ilari Blasi è ricorsa sicuramente all'aiuto del chirurgo ma non solo Infatti, la Blasi si dedica per molto tempo alla cura di sé andando dall'estetista e dalla parrucchiera periodicamente D'altronde, questo è un modo di vivere proprio di tante star dello showbiz che devono sempre apparire al top per poter rimanere sulla cresta dell'onda Ma sapete quanto spende Ilari Blasi per essere così perfetta? La sua celebre chioma bionda, ispirazioni per tante ragazze, non arriva così naturalmente Dietro c'è un lavoro certosino da parte della sua amica e fidata parrucchiera Alessia Solidani che puntualmente la rende ancora più bella di quello che è Le cifre spese dalla Blasi per la sua chioma.Il portale Cambio Taglio Ita ha fatto una sorta di listino prezzi della parrucchiera Alessia Solidani patron della famosa catena di saloni solidani saloni euro Per una piega si spenderebbero circa 30 euro mentre per un taglio 45 Il colore parte da 60 euro anche se la cifra aumenta quando si vuole un trattamento particolare come lo scetouche parziale Infatti, il costo può arrivare a 120 euro a seduta ma se si desidera spendere di meno con un semplice riflessante si paga circa 25 euro Il trattamento alternativo alle tinte tipo le ne costa dai 30 euro in su mentre se la cliente desidera non un taglio netto ma una semplice spuntatina può anche spendere 35 euro Insomma, si tratta di prezzi abbastanza abbordabili ma affrontati con una certa frequenza risultano sicuramente onerosi È quello che capita, infatti, ad Ilari Blasi che rinnova costantemente il suo loop per essere sempre alla moda e anche per esigenze lavorative Di certo la donna e la Solidani sono diventate amiche e con molta probabilità per la conduttrice ci sarà un prezzo di favore Tuttavia, non è impensabile credere che la Blasi per curare la sua chioma non badi assolutamente a spese Link A presto! Grazie per la visione!